Ieri il Presidente dell'Inps Tridico ha detto entro venerdì la cassa integrazione sarà pagata a tutti. Noi non scommettiamo su nulla, se lo dice il Presidente dell'Inps vogliamo crederci. Il Presidente dell'Inps Navigator troveranno posto a tutti. Non lo so. Però andiamo a Bologna dove vi facciamo sentire alcuni imprenditori che da giugno, da metà giugno, avranno i dipendenti senza più la copertura della cassa integrazione e quindi saranno problemi. A tra poco. Dall'inizio del coronavirus siamo stati obbligati a chiudere. La cosa molto più difficile è che non abbiamo ricevuto ancora la cassa integrazione. Dal 9 marzo non ho ricevuto un euro. Tiriamo avanti tenendo duro e attendendo notizie di quando ci liquideranno questa maledetta cassa integrazione. Siamo nel cuore di Bologna con vista sulla piazza Maggiore, il cosiddetto quadrilatero, dove si addensano locali, negozi di alimentari, di frutta e verdura, ristorantini. Abbiamo appena sentito i problemi di due giovani dipendenti dell'osteria Bella Vita. Fortunatamente è di questi giorni la promessa di Pasquale Tridico, attuale presidente INPS, che entro venerdì 12 giugno la cassa integrazione sarà liquidata a tutte le 419 mila domande giacenti. Ma il vero problema di questi giovani lavoratori è un altro. Fra pochi giorni finisce il FIS, Fondo di Integrazione Salariale, che potrà essere ripreso solo dal primo settembre per ulteriori quattro settimane. Nel frattempo la riapertura dell'osteria Bella Vita non è così semplice. Anche aprendo gli incassi sarebbero del 30% rispetto ai mesi precedenti e quindi non riusciremo sicuramente a pagare i nostri ragazzi. In questi casi la legge permetterebbe di far usufruire ai ragazzi delle ferie che hanno a disposizione, ma anche per questo ci occorre la liquidità per pagarle. Oppure si potrebbero fare delle formazioni, ma non è il caso che fa per noi. Io non posso pensare di aprire il negozio, far lavorare i miei ragazzi e non avere i soldi per pagarli. C'è un problema complessivo perché sono tantissime le aziende di pochi dipendenti o appunto quasi a conduzione familiare. Queste oggi rischiano appunto di entrare in una spirale per cui non riescono ad andare avanti e non riescono neanche a ritribuire i lavoratori, con la paradosso appunto che anche i lavoratori rischiano di essere attaccati a un rapporto di lavoro che non li paga, ma non possono avere neanche nessun ammortizzatore sociale. La richiesta che come CGL stiamo facendo è appunto di coprire e rifinanziare gli ammortizzatori sociali, almeno fino a quando non si intravede una ripresa progressiva della normalità. Sperando in questo rifinanziamento degli ammortizzatori sociali ci sarebbero anche i fondi sure dell'Unione Europea che dovrebbero consentire al governo di aumentare la copertura degli ammortizzatori fino alla fine dell'anno. Ma questa ipotesi non è ancora all'ordine del giorno. Speriamo che questa cassa integrazione possa essere allargata almeno fino a settembre, che è il minimo in cui pensiamo ci possa servire. In questa fase di incertezza potrebbe anche non essere sufficiente.